Un saluto e ben ritrovati con il Tg di Trebimeteo. Diamo uno sguardo all'immagine da satellite che ci mostra l'Italia ancora alle prese con il vortice ciclonico che nelle ultime giornate ha portato a una situazione di maltempo su diverse nostre regioni con associato anche un sensibile calo delle temperature. Attualmente l'aria di bassa pressione è incentrata sull'alto adriatico, infatti sul nord-est abbiamo l'aria più instabile con molta nuvolosità, piogge, acquazioni e temporali a più riprese che però nelle prossime ore tenderanno a mostrarsi anche sulle regioni centro-meridionali dove l'instabilità andrà accentuandosi soprattutto a ridosso dell'Appennino. La tendenza comunque per la giornata di domani, in particolare tra giovedì e venerdì, vede l'imporsi di nuovo dell'alta pressione che gradualmente torna a stabilizzare il tempo con anche un aumento delle temperature. La giornata di giovedì comunque sarà ancora l'insegna della variabilità con il rischio per nuove acquazioni, in particolare sul Levante Ligure, l'alta Toscana e lungo l'Appennino, ma nel complesso il tempo sarà un po' più asciutto, specie poi in vista del fine settimana quando l'alta pressione continuerà a sostare sul Mediterraneo, in particolare ci sarà una rimonta anche con correnti un po' più calde dal nord-Africa sulle regioni meridionali, quindi le temperature saliranno fino oltre i 30 gradi, al centro nord i valori massimi non andranno oltre i 28-30 gradi, quindi rimanendo in media, questo anche a causa di una circolazione depressionaria che interessa la penisola iberica e che quindi richiama correnti più calde dal nord-Africa. Il weekend quindi sarà stabile un po' su tutto il nostro paese, ma per maggiori dettagli sulle vostre località continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.